La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha ridotto a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione alla condanna nei confronti di Giuseppe Giansalvo, accusato dell'omicidio preterintenzionale del fratello Matteo, appena maggiorenne. L'episodio risale al 17 gennaio 2021, quando nella loro abitazione a Migliani, con un violento litigio tra i due fratelli, culminò con un colpo mortale inferto con un rullo da pittore. La tragica vicenda iniziò con un litigio tra i fratelli Giansalvo, Giuseppe, in preda alla rabbia, ferrò un rullo da pittore e colpì alla testa il fratello minore Matteo, appena maggiorenne. Il colpo si rivelò fatale, causando la morte immediata del giovane. L'accaduto sconvolse la comunità locale e sollevò molte domande sul rapporto tra i due fratelli e le dinamiche che portarono a tale tragico epilogo. Inizialmente il Tribunale di Chieti, con il rito abbreviato, aveva condannato Giuseppe Giansalvo a una pena più severa. Tuttavia il processo di appello, presieduto da Armanda Servino con Carla De Matteis come giudice a Latere, ha deciso di ridurre la condanna di circa 11 mesi. La sentenza era stata emessa, quella precedente, il 24 maggio 2022. Giuseppe Giansalvo, oggi 25 anni, è stato difeso dall'avvocato Marco Femminella. La difesa ha sottolineato come l'atto fosse frutto di un impeto di rabbia non premeditato, cercando di mitigare la responsabilità del giovane imputato. Inoltre è stato considerato il periodo già trascorso in misura cautelare agli arresti domiciliari. La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha ridotto ora la condanna a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Questo significa che tenendo conto del tempo già scontato, Giuseppe Giansalvo riuscirà a evitare il carcere potendo beneficiare di una pena alternativa come l'affidamento in prova ai servizi sociali.